Ehi, 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 benvenuti al nuovo episodio di No Edit. E prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per non perdere nessun video, perché io carico anche così a sorpresa e voi potete dire, oh ma questo io non l'avevo visto! E invece con la campanella sarete immediatamente avvisati. Vi ricordo che No Edit è il mio format in cui leggo a impronta, così, senza fare nessun tipo di post-produzione. E siamo arrivati, speriamo, al capitolo conclusivo di Scelte, di Glenn Vesi. Dico speriamo perché vediamo se reggo a leggere 16 pagine, altrimenti potrebbe essere il penultimo appuntamento. Basta, ho già parlato per 54 secondi, andiamo con il racconto. Buon ascolto! Dozon fu colto dal panico, sentendo un'auto avvicinarsi, ma non aveva nessun posto in cui nascondersi. Alla sua destra c'era un pendio roccioso, troppo ripido per poterlo scalare in fretta. Alla sua sinistra un guardrail metallico e uno strapiombo. Uggiolando, si addossò al pendio roccioso, coprendosi gli occhi per non essere visto. Il suono aumentò fino a coprire ogni cosa e ad inondarlo di paura. La paura fiorì, illuminandosi di fuochi d'artificio al suono dei freni. Poi vibrò, saltellò, danzò, mentre udiva la portiera dell'auto aprirsi e chiudersi. No, 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 credette di urlare. Invece la voce gli uscì debole e fiacca, terrorizzata. Poi un'altra voce parlò, morbida e forte, imperiosa, profonda e gentile. No! L'urlo di Dawson fu di nuovo a malapena percettibile. Non fece nulla per fermare quell'altra voce. Provò un impeto di rabbia contro quella voce così salda e serena, morbida, con un'anima di ferro. Si fece più vicina. Vicinissima, anzi. Le mani di Dawson brancolarono frenetiche contro la parete dinanzi a lui. trovarono una pietra grande come un pugno. Ruotò rapidamente su se stesso, aprendo gli occhi solo quando la pietra lasciò la sua mano per lanciarsi verso l'origine della voce. Fu un lancio pessimo. Il viso di quella voce sorrise dolcemente. Morirai! Ti ucciderò! Erano le prime parole che Dawson pronunciava, benché fosse a bordo dell'auto da più di un'ora. Aveva trascorso quel tempo senza mai guardare l'uomo, fissando invece fuori dal finestrino la sua destra e tentando di scacciare una nauseante sensazione di déjà vu. Sapeva solo che non voleva ricordare. Non tutto. L'uomo al suo fianco riconobbe le parole di Dawson come una potenziale inclinatura nella sua fastidiosa corazza, ma procedette con cautela. Sapeva benissimo che cosa doveva affrontare, che cosa dovevano affrontare entrambi. Con calma e senza fretta pose la sua domanda. «E perché vorresti farlo?» Poi attese pazientemente che Dawson interrompesse di nuovo il suo silenzio. «Non sarò io a farlo. Succederà non per mano mia, ma a causa della mia presenza. Sarò io il responsabile. Prova a dirmi perché la pensi così!» Per la prima volta da quando era salito sull'auto, Dawson si girò a guardare il compagno. Era un uomo dal viso robusto, con capelli scuri e una barba di parecchi giorni. Un paio di occhiali sarebbero sembrati a casa loro su quella faccia, ma lui non ne portava. Lo avrebbero fatto sembrare proprio un predicatore. Non aveva detto lui stesso di esserlo stato una volta, forse anni prima? Beh, anche senza occhiali, ne aveva proprio l'aria, nonostante i pantaloni da lavoro e la camicia a maniche corte di un azzurro vivace. Dawson guardò ancora dal finestrino prima di rispondere. «Tutti quelli che conoscevo sono morti, anche quelli che ho incontrato per caso, prima o dopo. Non ha più importanza. Io li incontro, loro muoiono. Vorrei morire io, invece, ma sono soltanto un portatore. Immune. Posso solo guardare gli altri morire. L'uomo aspettò qualche istante per essere certo che Dawson avesse finito. Poi parlò di nuovo. Probabilmente non vorrai sentirmi dire che ho già sentito persone dirmi le stesse cose prima, o che di questi tempi è un'illusione comune e che a dire il vero non è mai stata molto rara. Molta gente la pensava così anche prima del... del cambiamento, o come preferisci chiamarlo. Ma che tu voglia sentirtelo dire o no è vero. Ed è esattamente ciò che ti serve sentirti dire. E ciò che ti serve pensare in questo momento. Tu non sei solo. Dawson si girò bruscamente per guardare l'uomo, che a sua volta si era voltato per incontrare i suoi occhi. L'incrinatura nella corazza era visibilmente più ampia. Raccontami. Dimmi tutto ciò che riesci a ricordare. Anche le cose che tenti così dolorosamente di scordare. E dopo qualche altro minuto, dopo qualche altra gentile stimolazione e relativa apertura, Dawson fece appunto questo. Questi sono tempi estremamente difficili, amico. L'auto era parcheggiata dietro un vecchio mulino, accanto a un ampio torrente luccicante. I due uomini si dividevano una tazza di caffè tiepido versata da un termos che il predicatore, il cui nome era Richard, aveva estratto da sotto il suo sedile. Richard restituì la tazza e Dawson proseguì. Oh, lo so che sembra una stronzata da pio seminarista. Quel genere di banalità che sfornavo così spesso a gente che pensava soltanto che il loro mondo stesse cadendo a pezzi. Ma non puoi negare che nessun essere vivente fosse preparato a quello che è successo al mondo. Eravamo impreparati fisicamente, tatticamente e spiritualmente, e per quest'ultimo punto sono pronto ad accettare la mia parte di biasimo, perché allora ero del mestiere. Richard sorrise e Dawson gli passò la tazza, riscaldato da quel sorriso ma incapace di restituirlo. Ma quel che è peggio? Non eravamo preparati psicologicamente. Tutte le tattiche e le procedure che avevamo laboriosamente imparato per affrontare la vita su questo mondo si sono rivelate inutili. E' stato questo il colpo più devastante. Abbiamo perduto le nostre regole, i nostri codici, i nostri meccanismi di riferimento. Visto che non c'era più nulla di prevedibile, nulla in cui potevamo credere, abbiamo perso la nostra fede. E perdendo la fede abbiamo perso anche la volontà e l'amor proprio. Dawson si fissò le mani in grembo, aperte e con i palmi verso l'alto. Non posso condividere la tua fede, Richard. Non posso credere nel tuo Dio. Amore e misericordia, mi dicevano, lui non avrebbe mai lasciato che succedesse tutto questo per quanto fortunatamente misteriose fossero le sue vie. Non ti biasimo. Dawson sollevò gli occhi verso il suo nuovo amico, ascoltandolo con attenzione. Anch'io non accetto più a occhi chiusi le vecchie idee, ma non è questo il genere di fede di cui parlo. Quanto a condividerla, tu non hai bisogno del genere di fede che si potrebbe dividere con qualcun altro. A te serve quel genere che è solamente tuo, qualcosa che venga da dentro di te, un insieme di ciò che sei stato e hai visto in tutta la tua vita. Richard beve un altro sorso dalla tazza, la passò a Dawson e mise in moto. Viaggiarono. Quando la notte prese interamente possesso del panorama circostante, stavano ancora viaggiando, con i fari dell'auto che spingeva il buio davanti a loro. Avevano trascorso quasi tutta la serata parlando dei diversi tipi di fede che esistevano al mondo. Perfino in un mondo come quello che era diventato il loro. Avevano discusso a fondo il collegamento fra fede e volontà e fra volontà e capacità di sopravvivere. Richard sosteneva che mentre gli eventi avevano distrutto la sua fede in una divinità onnipotente e misericordiosa, avevano tuttavia risvegliato e rinnovato la fede che un tempo aveva nutrito nello scopo della sua missione originaria. Ero giunto alla mia vocazione, o almeno così mi dicevo un tempo, per servire la gente, per salvarla. Una missione degna di questo nome, l'unica missione la quale ogni servitore di un Dio benigno e compassionevole dovrebbe aspirare. Ma a volte penso che Dio... No, non Dio, ma l'immagine di Dio e tutti i dogmi connessi sbarrino la strada a persone simili. Nel mio caso è successo così, almeno. Beh, dopo il cambiamento, il diluvio, come vuoi chiamarlo, sento che il mio scopo originario è stato riacceso. Forse perché è la prima volta sono riuscito a mettere veramente a fuoco il suo significato e adesso questo scopo è la mia fede, la mia volontà. In questo modo ho imparato a sopravvivere. Poi parlò a Dawson del suo nuovo lavoro, di come avesse passato a quelle ultime settimane viaggiando in lungo e in largo, cercando di trovare superstiti, cercando di aiutarli in ogni modo possibile. In massima parte parlando loro di uno scopo e della volontà, cercando di ispirarli. Così come vedi in realtà non ho cambiato professione, aveva sorriso, ma solo datore di lavoro. Non parlo più così spesso di religione, a meno che qualcun altro non ne senta il bisogno. Sento di essere più utile alla gente di quanto lo sia mai stato prima. E questo è proprio il momento in cui loro ne hanno maggiormente bisogno. È una sensazione piacevole. Riesce quasi a rendere questo inferno degno di essere vissuto. Così, mentre l'oscurità ammantava le basse colline che avevano appena attraversato, Richard cercò di guidare la mente di Dawson verso un'accettazione della vita, piuttosto che della morte. Cercò di scoprire la carota che Dawson poteva essere persuaso a inseguire. Dawson scoprì che quell'uomo gli piaceva. Credeva nella saggezza di Richard e avrebbe voluto compiacerlo. Voleva sperare. Voleva sperare con tutte le sue forze, ma era esitante. Ogni volta che si avvicinava a quell'emozione a doppio taglio, inevitabilmente si tirava indietro, ricordando i dolori passati. Non era certo di essere ancora pronto, o che avrebbe mai potuto esserlo. Era ormai notte avanzata quando trovò abbastanza coraggio per fare il salto. Avrebbe sperato, per quanto potesse dimostrarsi una scelta sicura o meno, avrebbe vissuto, anche se in modo disperato. Io ho uno scopo. Richard distolse gli occhi dalla strada per sorridere incoraggiante al suo compagno, nell'istante in cui la pallottola colpì il parabrezza. Dawson fu scagliato con violenza contro la portiera, mentre l'auto sbandava bruscamente. Poi fu spinto all'indietro sul sedile, quando Richard riprese il controllo e pigiò sull'acceleratore. Girandosi rapido per guardare dietro di loro, Dawson vide due figure sbucare dagli alberi scuri che costeggiavano la strada. Vi furono due lampi arancioni e negli udì altri due spari, ma i colpi mancarono al bersaglio. Poi l'auto abbordò una curva, oscurando la vita degli assalitori e impedendo altre minacce alla fuga sua e di Richard. «Volevano l'auto, non è vero!» esclamò Dawson, inspiegabilmente più eccitato che spaventato dall'esilità dello scampato pericolo. Si girò per congratularsi con l'amico per il sangue freddo dimostrato nella guida, ma si raggelò prima di poter riaprire bocca. Una macchia scura, già abbastanza ampia, si stava rapidamente allargando sul petto di Richard. «Oddio!» fu tutto quello che Richard riuscì a sussurrare. Le nocche bianche sul volante, il viso pallido e rigidito dal dolore. Richard manovrò l'auto per la strada serpeggiante a velocità pericolosa per altri cinque minuti. Dawson trascurò completamente la strada. Non avvertì nessun timore per la velocità o gli ostacoli, continuando a fissare impietrito il viso del predicatore. Richard arrestò del tutto l'auto prima di afflosciarsi all'indietro sul sedile. Anche allora tenne il collo e la testa rigidamente retti. Le sue labbra si mossero lentamente, con precisa determinazione. «Sto per morire, Dawson, ma non è colpa tua. Anzi, in un certo senso puoi salvarmi. Fammi un ultimo favore!» In seguito Dawson non riuscì mai a decidere se in quel momento, prima di proseguire con voce più sibilante, Richard sorridesse o facesse una smorfia di dolore. «No, due. Primo, vivi. Scegli adesso di vivere. Fa che la mia morte serva almeno a questo. Prendi l'auto, raggiungi il tuo scopo, non lasciare che ti prendano». Dawson annui, anche se il predicatore aveva chiuso gli occhi. Poi Richard li spalancò di nuovo, mentre cercava la maniglia della portiera, la premeva e si lasciava scivolare sulla strada. Dawson si sporse sul sedile nel vano tentativo di afferrare l'amico e trascinarlo ancora sull'auto. Dalle labbra di Richard uscì un rivolo di sangue, mentre fissava Dawson negli occhi e scuoteva il capo. Il suo respiro giungeva a singulti. Quando parlò di nuovo, lo fece con voce che per metà sembrava fatta di ghiaia e per metà di sangue gorgogliante. «Secondo favore. Nel cruscotto. Pistola!» Dawson rimase a fissarlo con occhi sbarrati. «Prendila!» Richard cominciò a tossire, spruzzando sangue sulla portiera aperta, sulle sue mani e sugli abiti. Riuscì a parlare ancora, con voce sempre più affaticata. «Sparami alla testa! Non voglio camminare come loro!» Dawson continuò a fissarlo. «Aiutami a uscirne!» I loro sguardi si allacciarono e per un istante Dawson credette di poter fare ciò che l'amico gli aveva chiesto. «Poi gli occhi di Richard si chiusero con il suo ultimo respiro gorgogliante!» Ok, mancano dieci pagine per finire la storia. L'ultimo capitolo ho deciso di leggerlo, ma vi chiedo di avere pazienza perché sto morendo di sedia. Grazie. 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 Eccomi qua. Andiamo con il decimo e ultimo capitolo di questa storia. Capitolo dieci. Sono lieto che gli ultimi stadi del mio viaggio risultino perduti alla mia memoria, oscurati da una foschia composta di rimorso e paura. Rimorso e paura provocati da cosa esattamente? Non so dirlo. Non ho intenzione di sottopormi a un esame così approfondito. Non ancora almeno. In termini più generici so che il rimorso è causato da ciò che io ho dimostrato di essere. La paura invece da ciò che potrei scoprire se la foschia si disperdesse e dovesse affrontare nuovamente le azioni e le scene che ho volutamente dimenticato. Sono lieto anche di essermi dimostrato incapace di registrare qui gli eventi di quel periodo. Se li avessi trascritti, mi rifiuterei di leggerli. Oghi. Oghi mi dice che comunque tutto questo non ha alcuna importanza. La scorsa notte abbiamo bevuto il rum e lui ha detto che nulla del passato, sia individuale che collettivo, ha ormai più importanza. Le cose sono diverse. Io sono vivo. Ora sono qui. Sei un essere nuovo, mi ha detto Oghi. Iniziato appena oggi, in questo stesso istante, come puoi giudicarti severamente quando non hai ancora fatto nulla in questa nuova vita? Non c'è nulla da giudicare. Come puoi conoscere i tuoi limiti se devi ancora metterli alla prova? Sei una lavagna pulita. Il processo di apprendimento deve iniziare di nuovo. Tu sei l'essere che sei in questo momento. Non sei e non puoi essere nessun altro. Quindi decidi tu chi vuoi essere. Voglio credergli. Questo posto è molto diverso da com'era un tempo. Più permanente, meno nomadico. Hanno costituito baracche, rozze primitive, ma molto più solide e resistenti di qualsiasi altra cosa mai sorta su questo spazio. Non sono più una tribù di passaggio. Il loro principale mezzo di trasporto è andato perduto. Questo non significa che i treni siano scomparsi, perché funzionano ancora, ma sono ormai così rari e così ben sorvegliati che avvicinarsi vuol dire farsi ammazzare. Solo treni governativi e gli ordini dei soldati sono chiarissimi. Quasi tutti qui, credo che saremmo più di una ventina, portano pistole o fucili. Per un attimo mi sono chiesto come avessero fatto entrarne in possesso, ma quel pensiero minacciava di farmi ricordare come avevo ottenuto la mia. Sono riuscito a interrompere quella serie di pensieri prima che la foschia si sollevasse. Forse, un giorno, mi permetterò di ricordare. Quando mi sentirò più forte di adesso? Quando mi sentirò abbastanza forte da non avere più paura? Questa mattina Oghi e parecchi altri sono partiti per una battuta di caccia. Gli ho chiesto che cosa cacciavano da queste parti, ma per ragioni che non riesco neppure a immaginare, lui si è fatto stranamente brusco. Carne, cibo, tutto quello che ci darà la forza di sopravvivere un altro giorno, tutto ciò la cui morte ci aiuterà a restare vivi. Così un giorno forse alcuni di noi che saranno sopravvissuti abbastanza a lungo potranno vedere la fine di tutto questo. I suoi modi mi hanno turbato. Non lo avevo mai visto così agitato, ma è anche vero che, vedendo come ero rimasto colpito dalla sua reazione, lui mi ha sorriso sorriso e ha ammorbidito il tono. È stato un sorriso triste, stanco e rassegnato, ma non ricordavo nemmeno l'ultima volta che avevo visto un altro sorriso e così ho fatto del mio meglio per sorridere anch'io. Pensiero del giorno, mi ha detto, tutte le regole sono cambiate, tutto ciò che sapevi prima è sbagliato, tutte le abitudini sono state abolite, mai confondere le abitudini con la morale. Mi ha sorriso di nuovo, ma questa volta con una smorfia talmente lugubre da rendermi impossibile ogni tentativo di rispondere. Sono di nuovo confuso, ma immagino che dopo tutto ciò che Oghi deve aver passato in queste ultime settimane non dovrei aspettarmi di poter capire ogni suo gesto, ogni sua parola. Quando quella sera i cacciatori tornarono al campo, quasi tutti gli altri interruppero le loro occupazioni per accoglierli. Dawson stava legando insieme alcuni rami per migliorare il riparo che si era costruito. Terminò il nodo al quale stava lavorando, poi si alzò per unirsi agli altri. Provò una stretta allo stomaco vedendo i due uomini morti che i cacciatori stavano riportando al campo. Chissà perché non gli era venuto in mente che la battuta di caccia potesse rivelarsi così rischiosa. Ma certo, idiota, si rimproverò silenziosamente. Come dice Oghi, là fuori c'è un mondo diverso, più pericoloso. Ecco perché si è comportato in modo così strano. Aveva paura di non tornare indietro. Quando tutte le implicazioni di quel pensiero lo colpirono, Dawson provò una fitta di panico. Si unì bruscamente alla folla per dare un'occhiata più da vicino ai due uomini morti. Trovò strano che non vi fossero esclamazioni di dolore o di rammarico intorno a lui. Solo conversazioni a bassa voce e di poche parole. Con il tono cupo di uomini che discutessero di un lavoro sgradevole ma necessario. Gli abitanti del nodo erano talmente incalliti, si domandò, da non saper più dimostrare un briciolo di compassione per i loro compagni. Poi le parole cominciarono a fissarsi nella sua mente. Non sembrano morti da molto a guardarli. Due, quattro giorni al massimo dovrebbero essere ancora commestibili. Il meglio che possiamo sperare, considerando cosa non darei per un fottuto quarto di manzo selvaggina, un Big Mac alto così. Quando arrivò in prima fila, perse la capacità di lasciarsi confondere da quelle frasi udite a metà. C'era qualcosa di familiare in uno dei due cadaveri. Non la familiarità che aveva temuto all'inizio, ma qualcosa di incredibilmente peggiore. La foschia che aveva scurato il suo recente passato svanì in un attimo. riuscì a distogliere lo sguardo dalla camicia azzurra con le maniche corte, al cui centro spiccava una grossa macchia scura di sangue secco, solo per fissare metà del viso familiare dell'uomo. La metà che non era stata distrutta da una o più pallottole dei cacciatori. In lui non restarono più dubbi, anche se avrebbe voluto con tutta l'anima che ne fossero rimasti. La voce di Oghi si levò secca su tutte le altre. Rory, Moio, Harrison, puliteli e preparateli. Greg, attizza quel fuoco e sistema lo spiedo. Dawson si piegò in due e vomitò là dove si trovava. Lascio questo posto all'alba, anche se in questo mondo non c'è nessun altro luogo dove possa andare. Ascoltami, danazione, non puoi impedire a questo cazzo di mondo di essere fatto così com'è. Il mondo possiede un impeto che né tu, né io, né tutte le stramaledette anime che ci vivono sopra potranno mai contrastare. Per prima cosa devi accettare questo fatto. Dopodiché ti rimangono due scelte. Puoi lasciare il mondo morendo visto che questa è la sola via di uscita che funzioni oppure puoi assecondare l'impeto e vivere finché ti riesce sperando contro ogni evidenza che il mondo possa migliorare. Cercare di contrastare il suo impeto equivale ad abbandonare la partita che tu lo voglia o no perché il mondo ti passerebbe tranquillamente sopra le ossa ti schiaccierebbe come una mosca, bimbo. Il viso di Oghi era arrossato e contratto. La sua voce una furia controllata. Dawson si rifiutava di guardarlo. Se domani lasci questo campo tu abbandoni per sempre la partita. Abbandoni ogni speranza di poter anche pensare di sopravvivere fino a vedere la fine di tutto questo. E questo perché? Dici che è una questione di principi ma non è vero. I principi si fondano sulla morale e quello che ti ha sconvolto non è qualcosa che riguarda la morale ma un'infrazione alle tue vecchie abitudini culturali. Tutto qui. Abitudini che hai assimilato per inquadrarti in una cultura che ora è morta. È morta settimane fa, amico. E potrebbe essere anni. Potrebbero essere secoli considerando l'utilità che possono avere per te adesso. I morti sono morti. Lascia perdere, amico. Oghi tirò un respiro profondo cercando di calmarsi un poco. Prova a pensare in questo mondo. Il mondo in cui sei cresciuto aveva meccanismi capaci di insegnarti in qualche modo affrontare tutti i compromessi che richiedeva. Tu hai imparato così bene che per quasi tutta la tua vita precedente non ti sei mai neppure accorto di essere sceso a compromessi per mantenere al caldo il tuo stupido culo. Quando quel mondo è morto tutto è diventato nuovo diverso, più difficile. I compromessi sono diventati evidenti perché non erano più gli stessi con i quali avevi vissuto ogni fottuto giorno della tua vita. e inoltre non c'erano più meccanismi per insegnarti come fare per accettarli. D'accordo, il mondo è una merda. Tutto ciò che sapevi è sbagliato. Ma puoi ancora cavartela se ti adegui. Adeguarsi o morire. Si riduce tutto a questo. Ci fu una lunga pausa. Capisci quello di cui... di quello che ti sto dicendo? Un silenzio ancora più lungo. Bene, fai la tua scelta amico. Io ho fatto la mia. Oghi si girò per allontanarsi. Ma la voce fiocca di Dawson bloccò il suo movimento. Mi terrorizza Oghi. Oghi tornò a guardare l'amico. Gli occhi di Dawson erano due laghi di dolore. Così voi accogliete nei vostri corpi la causa che li ha ridotti in quello stato. Che li ha fatti camminare di nuovo. Potrebbe essere un virus, un nuovo genere di batteri, una specie di infezione. Potrebbe rendervi simili a loro. Oghi scrollò il capo. Se non mangiamo, moriremo. Allora diventeremo tutti come loro abbastanza in fretta. Alcuni di noi mangiano già a questa carne da più di due settimane e non abbiamo ancora perso nessuno. Almeno non nel modo che intendi tu. Dawson lasciò ricadere a terra lo sguardo. Non lo so. È che non riesco. Lasciò incompiuta la frase. Sono un debole, un vigliacco. L'ho dimostrato in ogni cosa che ho fatto. Non so dove andare. Non ho neppure la forza di mantenere una decisione che penso che resterò. che sceglierò addirittura di mangiare con loro. Forse sto scegliendo grazie a qualche riserva di energia, di adeguarmi o magari più semplicemente per pura debolezza sto scegliendo di non morire. queste distinzioni sono ancora reali oppure come insiste ripetermi Oghi mi sto solo torturando inutilmente. Morale, abitudini, simili distinzioni sono mai veramente reali. Ci troviamo mai veramente di fronte a scelte che siamo liberi di effettuare. da giorni ormai non ho più la forza di scrivere. Ora capisco che non serve a nulla. Probabilmente non è mai servito proprio come la mia vita. Adesso vedo queste righe come il diario di un uomo morente dettato al suo assassino. causa della morte i tradimenti. Prima i suoi tradimenti verso gli altri e infine il suo tradimento di se stesso. La foschia si è sollevata completamente ora riesco a vedere tutto. È stato solo in virtù di quella foschia che sono durato così tanto. Scusatemi che lui è durato così tanto. Questo è un necrologio devo ricordarmi di mantenerlo impersonale. il suo tradimento della donna abbandonarla in quel modo quando avrebbe potuto restare e salvare almeno lei lo ha ferito gravemente. Il suo tradimento del predicatore un altro abbandono quando c'era ancora una cosa da fare un ultimo favore implorato e non concesso lo ha ferito ancora più a fondo. Ma il colpo di grazia l'ha ricevuto con il tradimento di se stesso ironicamente quando avrebbe dovuto andarsene invece ha deciso di restare. Come ultimo tocco di ironia la causa della sua morte verrà attribuita dagli altri alla denutrizione e tutto a causa di quel tradimento che si rifiuta di commettere che il suo epitaffio sia la debolezza lo condusse alla soglia della morte la forza gli consentì di entrare. credevo che non avrei più scritto su queste pagine ma stanotte non mi resta nessun'altra consolazione Oghi è morto durante una battuta di caccia uno di loro è riuscito ad arrivargli alle spalle gli ha strappato quasi tutta la parte posteriore del collo prima che gli altri potessero abbatterlo è morto prima che lo riportassero al campo ho chiesto agli altri piuttosto rabbioso devo ammetterlo perché lo avessero riportato indietro ho insinuato senza andare per il sottile che volessero mangiarsi anche lui oltre alla bestia che lo aveva ucciso Harrison mi ha mollato un ceffone per questo parecchi altri mi hanno colpito con i loro occhi anche più duramente non posso obbiasimarli non ero il solo ad amare quell'uomo non ero il solo a contare sul suo affetto non siamo cannibari mi ha detto qualcuno e anche se allora non ho voluto ammetterlo comprendevo la differenza non gli hanno ancora dato il colpo finale non lo hanno immobilizzato hanno un rituale sembra secondo il quale devono aspettare che lui si rialzi prima di sparargli alla testa immagino che abbia a che fare con la speranza che lui non si rialzi evitando così la necessità di sparargli riesco a capirlo a livello emotivo anche se da un punto di vista pratico sembra solo un inutile prolungamento dell'ansia sono stati così gentili da accettare la mia richiesta di effettuare la veglia tutti a favore anche se mi pare di capire che questo genere di incombenza sia sbrigata solitamente in rotazione non so spiegare perché voglio essere proprio io quello che finalmente lo darà in pasto alla morte però sento di dovergli almeno questo lo devo al predicatore alla donna e a me stesso forse perché devo ancora cercare di dimostrare qualcosa di non essere soltanto debolezza e tradimento di potere almeno una volta fare qualcosa di buono per quelli che sono stati buoni con me e il campo dorme solo io e le guardie intorno al perimetro restiamo svegli aspetto ormai non dovrebbe mancare molto sono trascorse 24 ore della sua morte e la veglia continua è sorprendente ho lasciato che Harrison mi desse il cambio all'alba ma mi sono fatto promettere di nuovo il turno di notte se si rivelasse necessario prego che sia così se qualcuno fra quelli che ho mai conosciuto merita di riposare in pace è proprio Oghi domani all'alba lo sepelemo comunque vada come vada Harrison mi dice che Oghi potrebbe anche non rialzarsi che una cosa simile era già successa una volta pochi giorni prima del mio arrivo l'uomo era morto più o meno nello stesso modo ma non si era più rialzato lo avevano sepolto poco lontano e la sua tomba era rimasta intatta Mojo che sostiene di essere la reincarnazione di un famoso sciamano Zdeco dice che ingerendo gli spiriti dei propri nemici ci si può liberare del loro potere dopo la morte che l'abitudine di mangiare i divoratori di cadaveri ha protetto Oghi dai demoni dell'altro mondo che in caso contrario si sarebbero impossessati di lui e lo avrebbero fatto camminare con loro dice anche che una simile protezione si può ottenere mangiando semplicemente i loro cuori questo non lo credo così come non credo a tutte le altre storie di Mojo ma la cosa mi fa pensare sto pensando a quello che una volta ho detto a Oghi sui virus le infezioni e il contagio sto pensando alle immunità acquisite e alle tolleranze di accumulo ai vaccini agli anticorpi ai veleni che possono salvare la vita non sono un biologo ma mi sembra un'idea più sensata di una teoria voodoo penso anche alle coincidenze alle rare immunità naturali mi chiedo che probabilità ci siano di scoprirne due casi in una comunità così ristretta non avevo mai sentito parlare in precedenza di fatti del genere ma la mia esperienza statisticamente parlando era troppo ridotta per trarre qualche conclusione affidabile sto anche imparando a pregare questa mattina abbiamo seppellito Oghi durante la sua veglia ho interrotto il mio digiuno adesso comprendo ciò che lui cercava di dirmi sulle scelte ma per me l'importante non è continuare a vivere è la possibilità di rifiutare il ritorno fra i vivi dopo la mia morte inevitabile questa è la mia decisione la mia scelta sono pronto ad accettare il compromesso necessario lo stufato mi ha rivoltato allo stomaco anche se la carne era cucinata nel modo più insapore possibile Harrison dice che come prima reazione comune a tutti dice anche che lo stufato è meno forte appena fatto sto facendo progressi nella preghiera mi viene in mente che devo fare circolare la notizia di questa possibile cura forse partendo da questa informazione si potrebbe distillare o produrre qualche vaccino ma come farla circolare a chi affidarla chi rimane che possa utilizzare o trasmettere questa informazione i treni governativi corrono ancora quindi qualche struttura deve essere rimasta parzialmente in funzione è chiaro che i militari esistono ancora ma cos'altro all'infuori di loro il centro di controllo epidemico di atlanta avrebbe dovuto essere un organismo da proteggere a ogni costo ma avranno fatto il tempo a salvarlo in caso contrario restano altri istituti sì sì dove non lascerò il campo per una ricerca alla cieca senza sapere dove dirigermi e o quali siano le mie probabilità di arrivarci se qualche probabilità esiste ancora deve passare per i treni gli uomini sui treni o senz'altro i loro superiori devono sapere quali opzioni sono disponibili e nessuno meglio di loro potrà trasmettere questa informazione a qualcuno in grado di utilizzarla a dovere consegnerò loro l'intero diario tutta la storia che ho scritto per convincerli che faccio sul serio per mostrare loro una parte di quello che ho attraversato ormai non mi serve più sto ritornando a essere un uomo completo la mia mente è limpida nota del trascrittore la parte finale risulta scritta con una calligrafia completamente diversa dalla precedente tale da non lasciare dubbi sul fatto che si tratti di una seconda persona la parte finale diceva così lo hanno ammazzato con una fucilata ha commesso l'errore di gridare ai tizi sul treno che aveva qualcosa di molto importante da consegnare loro e si è messo a correre lungo il convoglio per avvicinarsi e passare a quelli il libro lo hanno steso morto a venti metri stavo guardando peccato perché quel tipo mi era simpatico non ho neanche fatto in tempo a dirgli che mi dispiaceva averlo colpito quella volta così ho cominciato la veglia perché avevo una mezza idea che avrebbe cercato di tornare indietro avevo ragione quindi o lui si sbagliava sulla faccenda dell'immunizzazione di cui continuava a parlare o magari non aveva mangiato con noi abbastanza a lungo sono contento che sia tornato indietro mentre ero di turno io in un certo senso è più facile quando si prova simpatia per il tizio non si vuole che sia un altro a rimetterlo a dormire meglio farlo di persona con lui avevo cominciato a parlare un po' gli raccontavo i miei problemi così gli ho detto che avrei scritto qui qualche parola se gli fosse andata male e che in qualche modo sarei riuscito a ficcare il suo maledetto libro sul prossimo treno adesso provo una sensazione strana a scrivere qui come se qualcosa di quel tizio potesse ancora sentirmi come se magari questa roba servisse a qualcosa dovrò essere più furbo di lui però lo butterò sul treno stando al riparo dietro qualcosa non voglio che ammazzino anche me con una fucilata non finché mi rimane una scelta e si conclude qui questa storia per certi versi a mio parere pesantuccia molto molto stirata che poteva concludersi molto prima nel senso che secondo me c'erano delle parti diciamo evitabili o perlomeno sintetizzabili non mi è dispiaciuta la narrazione per mezzo di diari caspita abbiamo fatto quasi tre quarti d'ora io vorrei davvero sapere cosa ne pensate voi di questo racconto ma dai numeri che mi compaiono sui miei sulle mie informazioni sui dati ho notato che in pochi in pochi hanno ascoltato e stanno seguendo questa questa storia però voi pochi che siete arrivati fino a qua lasciatemelo un commentino che davvero voglio sapere il vostro parere ci tengo trovate un minutino per scrivermi bello brutto grazie per aver seguito fino a qua e ci sentiamo al prossimo episodio di No Edit con una nuova storia ciao